Non ci sono più speranze di ritrovare superstiti tra i passeggeri del volo dell'Air Asia. Sono saliti infatti a oltre 40 i corpi dei passeggeri recuperati nel mare di Java dai funzionari indonesiani impegnati nelle ricerche dell'Airbus a 320, scomparso domenica mentre eri in volo da Subaraj a Singapore. Ora si cercano i corpi degli altri passeggeri. A bordo c'erano 162 persone, ma non c'era nessun cittadino italiano. I familiari hanno seguito dall'aeroporto gli ultimi sviluppi delle ricerche dei loro cari seduti in una sala d'attesa. Alla notizia del ritrovamento di detriti e corpi, molti hanno urlato e pianto senza controllo. Alcuni si sono sentiti male quando nello scalo indonesiano sono arrivati i primi corpi. Tra i relitti dell'aereo, un seggiolino, dei bagagli, un portellone, uno scivolo d'emergenza. Erano a 160 chilometri a sud-ovest di Bangalambun, a largo dell'isola di Borneo. Intanto resta un mistero la causa dell'incidente. Nessuno sa ancora perché quell'aereo è caduto. Il volo partito da Subaraj a condestinazione Singapore è sparito improvvisamente dai radar senza aver lanciato un segnale di avaria pochi minuti dopo aver fatto richiesta di salire in quota per evitare delle turbolenze. La richiesta sarebbe stata negata perché nella zona c'erano altri jet, maltempo o errore umano o una concatenazione di eventi. Altro particolare, i corpi pare non indossassero giubbotti di salvataggio. Il proprietario della compagnia aerea ha fatto sapere di essere affranto per il primo disastro della sua compagnia a low cost. Il mio cuore gonfio di tristezza per tutte le famiglie colpite, ha scritto l'imprenditore. Il 2014 resterà un anno nero per l'aviazione malese con la perdita di altri due aerei della compagnia nazionale della Malaysia Airlines. L'8 marzo era scomparso il Boeing 777, decollato da Kuala Lumpur e diretto a Pechino. Quattro mesi dopo, il 17 luglio, il volo MH17, sempre della Malaysia Airlines, è stato abbattuto mentre sorvolava le zone orientali dell'Ucraina. La Air Asia è considerata la regina delle low cost, premiata negli ultimi sei anni, con il riconoscimento di migliore compagnia a basso costo al mondo, grazie alla qualità del suo servizio. Serve 21 paesi e nei suoi 13 anni di esistenza ha fatto volare oltre 200 milioni di persone.